Il prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, ha nominato i tre componenti della commissione straordinaria che gestirà per i prossimi 18 mesi il comune di Ostuni dopo lo scioglimento del Consiglio per infiltrazioni mafiose. Si tratta del prefetto a riposo Tiziana Giovanna Costantino, del vice prefetto Antonietta Lonigro e del funzionario economico-finanziario a riposo Maria Antonietta Silvana Madaro. Le nomine saranno successivamente formalizzate con un decreto del Presidente della Repubblica. Tra le prerogative dei commissari c'è l'applicazione di misure volte a garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'adozione di protocolli di legalità di intesa con la Prefettura e di regolamenti per i diversi settori tra cui urbanistica, albo dei fornitori e accesso civico, oltre alla riorganizzazione dell'apparato burocratico con la rotazione degli incarichi e la rimozione del personale che risulti responsabile di aver favorito i clan locali. Un processo che è già iniziato a Carovigno dove poco meno di un anno fa venne sciolto il Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose anche qui legate all'affidamento dei parcheggi nella zona marina del Comune con la nomina, con decreto del Presidente Mattarella, dei tre commissari straordinari Maria Rosaria Maiorino, prefetto a riposo, Maria Antonietta Olivieri, viceprefetto e Michele Albertini, dirigente di seconda fascia. Sono dunque attualmente due i comuni della provincia di Brindisi sciolti per mafia nel 2021 sui 14 dell'intero territorio nazionale. In Puglia ci sono anche Squinsano e Foggia. Nel 2014 era stato sciolto per infiltrazioni mafiose il Comune di Cellino San Marco. In quell'occasione però furono arrestati l'allora sindaco e altre 13 persone. A Ostuni invece il Consiglio è stato sciolto senza che finora sia stata notificata neanche un'informazione di garanzia.